La festa dei popoli Questa volta la festa dei popoli sarà ospitata a Salerno. Il tema di quest'anno è Noi cittadini di pace. Un messaggio chiaro è che si vuole lanciare un momento terribile, in cui guerre di estinzione dilagano. Musica, convive l'età, piatti tipici, arricchirando l'iniziativa organizzata da Antonio Bonifacio, direttore di Migrantes dell'Arco di Occi. Decine delle comunità straniere che, come ogni anno, si ritroveranno a Salerno, tra una cornice straordinaria di suoni e colori, accomunati da un profondo spirito di solidarietà. Noi cittadini di pace vogliamo mettere in vetrina le bellezze di tanti paesi del mondo. Il sentirsi ed essere cittadini e soprattutto chiedere la pace.